Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nelle barnita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come versare con due bottiglie contemporaneamente con una tecnica di versaggio avanzata che si chiama Vipur. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satrio, liquore pineta e vermouth pita, ma ora andiamo a scoprire come fare il nostro Vipur. Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale se non l'hai già fatto e clicca sulla campanella. Ora adentriamoci nella tecnica e di che cosa abbiamo bisogno? In realtà abbiamo bisogno di molto poco, due bottiglie di vetro all'inizio vuote, un pochino d'acqua e due metal pour, quindi io in questo caso li ho già inseriti, se non hai a disposizione due bottiglie di vetro le puoi recuperare insomma da qualche tuo amico che magari ha qualche bar, tanto loro poi le buttano quindi non c'è problema. Due metal pour hanno un costo relativamente basso e quindi sei pronto per fare questa cosa qui. Come ogni volta, come dico ogni volta, mi raccomando separa la tecnica dalla precisione, quindi dividi questa cosa qui in due fasi. La prima fase deve essere imparo bene la tecnica, quindi lo faccio con delle bottiglie vuote, poi dopo vado di precisione, ok? Se parlo le due cose così ti eviti dello stress in più. Questo lo noto con i miei ragazzi insomma che magari vogliono fare tutto e subito e magari vedono che non ci riescono all'inizio e quindi magari ci rimangono un pochino male, quindi ti consiglio di fare un pochino di pratica e se all'inizio le cose non vanno proprio come come pensi tu, non ti preoccupare, è solo una questione di pratica, ok? Se hai delle bottiglie diciamo da esercitazione vanno anche benissimo anche queste qui. Quindi abbiamo già parlato negli scorsi episodi della tecnica front-end e back-end. Abbiamo detto che nella tecnica front-end andremo ad inserire il metal pour sempre considerando che io sono diciamo destro e non so se tu sei mancino o destro, quindi in base a quello andrai a impugnare la bottiglia in maniera diversa, è proprio di quello di che ti voglio parlare adesso. Quindi se io sono destro, quindi andrò a versare con la tecnica front-end, abbiamo detto che l'inclinazione del metal pour deve essere opposta al palmo della mia mano, quindi in questa direzione qui perché andrò a versare in questo modo. Quando io andrò a versare in back-end sarà al contrario, quindi in questo modo e andrò a versare in questo modo. Ti ricordi? Se ti sei perso l'episodio quando finisce questo fatela guardare e quindi andremo a fare oggi una cosa composta, quindi andrò a versare la stessa cosa che faccio con la mano destra, quindi il front-end con la mano destra in questo modo, andrò a farlo anche con la mano sinistra, quindi in pugnatura sempre tre dita, un mignolino dietro, andrò a versare in questo modo uno e due, chiaramente devo togliere tutto ciò che mi può ostacolare, ok? Quindi mano sinistra, mano destra, poi andremo a fare la tecnica v-pour, quindi partirò con tutte e due le bottiglie in questo modo e come puoi vedere formano una sorta di v. in questo modo io riesco a versare con due bottiglie contemporaneamente e poi posso decidere il flusso, quindi quanti ingredienti mettere all'occorrenza, ok? Quindi detto questo passo dalla bottiglia vuota ad una bottiglia piena, posso scegliere di utilizzare magari un bicchierino di plastica, un non so se è un tin, un qualsiasi contenitore, un baratto, insomma va benissimo, va benissimo uguale. All'inizio mi raccomando, cerca di stare ben centrato, io con i miei ragazzi quando parlo di queste tecniche di versaggio dico sempre che il contenitore, quindi che sia lo shaker, quindi o lo strumento o il bicchiere con il quale sto lavorando quindi per versarci gli ingredienti, deve essere e devo faccio finta che dal mio ombellico esce una sorta di raggio laser che deve colpire il bicchiere o lo strumento che sto utilizzando, in questo modo io sono centrato, se questo non dovesse essere così, quindi il raggio laser non colpisce il mio bicchiere vuol dire che sto lavorando storto e questo comporterà a fine serata ad avere dei problemi di schiena, ok? Quindi mi raccomando belli centrati e un'altra piccola cosa, un altro piccolo accorgimento, non so se hai notato ma io qui ho un piccolo tavolino di rialzo perché se io lavorassi su un piano più basso automaticamente, ti faccio un piccolo esempio, se io lavorassi sul tavolo senza senza un rialzo lavorerei in questo modo così, quindi andrei male, guarda la mia postura quanto cambia quando invece alzo il mio punto di versaggio, ok? Quindi per facilitarti mi raccomando, questo anche per evitarti dei dolori di schiena inutili, mi raccomando lavora su un piano un po' più rialzato. Passiamo quindi ora all'aspetto pratico, quindi andrò a mettere dell'acqua nelle bottiglie, mi raccomando all'inizio lavora sempre con poca acqua perché insomma alla fine rischiamo di... sono dei movimenti ai quali non siamo molto abituati e quindi potremmo avere poi degli infiammi o comunque dei dolori inutili, anche se hai un piccolo, un po' di tremore all'inizio è normale perché i muscoli non sono tanto abituati a fare questo tipo di movimento e quindi ci sta. Per risolvere questa cosa qui bisogna, indovina un po', fare molta pratica. Ok quindi andrò a versare in questo... quindi andrò ad impugnare la mia bottiglia, in questo caso di vermut mita e con acqua mita, in questo caso, nella mano destra, poi andrò a mettere la bottiglia di... in questo caso una bottiglia di vodka, andrò a girarla in questo modo, un po' come se versassi con tecnica front-end, quindi il metal pur dovrà avere l'inclinazione rivolta da questa parte e di conseguenza, facciamo così che verso qua dentro, andrò a fare questo, impugnerò tutte e due le bottiglie, parto dalle 6 e mezzo come abbiamo visto e vado a versare, chiudo e torno di nuovo, e poi quest'acqua ti consiglio chiaramente di magari di rimettere una caraffa e la riusi di di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, quindi avrei semplicemente bisogno di un piccolo imbuto. Questa è la prima fase, dopodiché andrai di precisione, quindi potrai agganciarci lo stesso conteggio che abbiamo visto nello scorso episodio, quindi dove parlo del conteggio in free-pouring di precisione. Quindi, per esempio, io in questo caso andrò ad utilizzare il mio perfect pour, oppure puoi utilizzare semplicemente una caraffa per avere un conteggio e andrò a fare questo. Quindi adesso andrò a simulare il versaggio di un'oncia per bottiglia, ok? Quindi andrò a fare bubble 4 e quindi con una con tutte e due le bottiglie quindi andrò ad ottenere 6 cl. Come puoi vedere siamo andati precisi. Chiaramente non preoccuparti se all'inizio insomma vai un po più lungo, un po più corto, questo è sempre una questione di pratica, è ovvio che il conteggio va un attimino tarato a quanto versi. Questa è una tecnica di versaggio molto affascinante, bella da vedere, chiaramente un po più complicata, quindi ti consiglio di farla solo quando hai già un po di manualità con le altre tecniche. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto e clicca sulla campanella, in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non resta altro di dirci, ci vediamo presto, anzi prestissimo. Alla prossima, ciao!